Non manca molto prima di vedere Rhino in Kraven the Hunter, il film in uscita quest'anno in cui Rhino dovrebbe essere addirittura il villain slash nemico principale, comunque, oh, sembra essere una versione interessante rispetto alle altre che abbiamo avuto in questi anni. Sono veramente curioso di vederle, ma vi siete mai chiesti quali sono le vere origini di questo personaggio all'interno dei fumetti? Questa è una cosa che abbiamo fatto diverse volte su Comics, parlare delle vere origini dei personaggi, soprattutto nel cano, soprattutto nei fumetti, e oggi tocca anche a Rhino. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo cominciare, mi raccomando, iscrivetevi, mettetevi in piace, e prima di cominciare vi ricordo che questo canale fa parte di un network di canali molto più grande, in realtà. Infatti si chiama Nerdzilla, trovate il link in descrizione per il nostro Linktree, in cui trovate anche gli altri nostri canali che trattano altri argomenti comunque legati al tema nerd, e in più anche la nostra pagina Instagram che vi consiglio sempre di seguire, perché diciamo che quella è la pagina Instagram per tutti i nostri progetti insieme. E io direi che possiamo cominciare con le origini di Alexei Sistevich, di fatto un criminale russo, della sua vita passata si sa pochissimo, quasi niente. Lui è il classico criminale russo, uno dei tanti in realtà, che cerca in tutti i modi di far sopravvivere la sua famiglia e se stesso, facendo più soldi possibili. Dietro Rhino in realtà non c'è questa grandissima storia, a un certo punto comunque viene, diciamo, messo in contatto con due scienziati, chiamati Igor e Georgi, che decidono di utilizzarlo per gli esperimenti. Per i due scienziati Alexei è un soggetto interessante, perché ha una grande muscolatura, quindi già per il loro progetto è qualcosa che può essere utile, e in più è estremamente stupido, il che per loro può essere utile invece per quanto riguarda la fedeltà che dovrà avere poi il loro nuovo soldato. Di fatto viene preso da questi scienziati e gli vengono fatti diversi esperimenti. Ovviamente lui è d'accordo, perché questi esperimenti gli avrebbero dati questi poteri e quindi altri soldi. Questi esperimenti lo hanno portato ad aumentare moltissimo la sua forza fisica, e in più i due scienziati gli hanno donato una vera e propria armatura, che non si può mai togliere effettivamente dal suo corpo, che diventa poi il suo simbolo. Questa armatura è l'armatura di un rinoceronte, e da qui Alexei diventa il famoso rhino. Perché i due scienziati scelsero il rinoceronte? Perché questa creatura, questo animale, ha sviluppato questa armatura dopo millenni di evoluzione, quindi è un'armatura, è tipo l'armatura perfetta creata dalla natura, e in più comunque può essere un simbolo di paura, vederti un rinoceronte gigante con una faccia umana in mezzo che ti corre addosso, sicuramente qualcosa di terrificante. Rhino quindi ha una delle più classiche storie di origini in assoluto, e ovviamente come molti villain, soprattutto che orbitano nel mondo new yorkese, a un certo punto avrà a che fare con quello che diventerà il suo arcinemico, ovvero la prima missione di Rhino, e di fatto anche la prima volta in assoluto che lui arriva in America, di fatti lui ha anche questo forte accento russo, perché lui impara velocemente l'inglese per questa missione, è quella di rapire John Jameson, il figlio di J. Jonah Jameson, che è un famosissimo astronauta nell'universo Marvel. L'obiettivo, veramente super semplice, cioè rapire questo astronauta e poi venderlo al miglior offerente. Io poi ogni tanto mi chiedo, ma chi è che avrebbe comprato un astronauta? Qualcuno probabilmente. Comunque, Rhino arriva quindi a New York, inizia a distruggere tutto proprio per cercare John Jameson. Ovviamente trova John Jameson, ma anche qualcuno che si diverte a girare per New York, perché è proprio Spider-Man. Alla fine i due quindi si scontrano, inizialmente Rhino sembra essere veramente difficile come avversario, perché non si può fermare. Cioè, quando inizia a caricare non si può fermare, ma Spidey si rende conto anche di un'altra cosa. Quando inizia a caricare, Rhino non può neanche cambiare direzione. In più, già dai primi dialoghi tra i due, Peter si rende subito conto che Rhino è un po' stupido, e quindi può utilizzare questa cosa, ovviamente a suo vantaggio, e lo sconfigge veramente in modo molto molto semplice. Rhino quindi viene preso, viene messo in una sorta di istituto, che ovviamente è fatto apposta per contenere gente come lui, e viene messo sotto sedativo. Alla fine riesce a uscire, ovviamente distruggendo quest'istituto, e cerca in tutti i modi Spider-Man. In quell'occasione, tra l'altro, Spider-Man riesce anche a utilizzare una sorta di acido, che è riuscito a generare insieme all'aiuto del dottor Connors, pensate, che scioglie l'armatura, e quindi di nuovo sconfigge il Rhino, che di fatto adesso è solo Alexei, perché senza la sua armatura, che poi viene contattato nuovamente dalle spie russe. Queste spie russe si rendono conto che comunque il potenziamento che gli hanno dato non è abbastanza, e quindi gli fanno un'altra offerta. Intanto gli darebbero un'altra armatura, identica, ma resistente agli acidi, e in più avrebbero aumentato la sua forza con i raggi gamma. Effettivamente, oh, Alexei accetta, e la sua forza raddoppia. In più ha anche questa nuovissima armatura. Come molti di voi si saranno resi conto, questo aumento di forza ricorda moltissimo un altro personaggio Marvel, ovvero Hulk. Di fatto, questo personaggio, infatti, e questa è una mia opinione, quindi potete crederci oppure no, ma per un periodo, secondo me, hanno cercato di far diventare Rhino non tanto un villain di Spider-Man, ma più un villain di Hulk. Beh, effettivamente, diciamo che la stazza lo avvicina a Hulk. Difatti, se notate, molti villain di Hulk solitamente hanno questa grandissima stazza, tranne uno di cui, tra l'altro, parleremo tra pochissimo. Difatti, l'obiettivo che viene dato a Rhino da, di nuovo, queste spie russe, è quello di rapire Bruce Banner, sempre, per lo stesso motivo, quindi, per vendere o il miglior offerente, visto che Bruce Banner all'epoca era già Hulk. Durante il primo scontro, ovviamente, Rhino perde, però qualcuno lo nota ed è proprio il leader, quello che per me è il più iconico villain di Hulk, il più importante, che si rende conto che forse altri esperimenti su Rhino, altri raggi gamma, lo possono aiutare proprio per sconfiggere il gigante di Jada. Ed è quello che succede. Il leader utilizza di nuovo dei raggi gamma per Rhino e quindi Rhino affronterà di nuovo Hulk, tra l'altro rovinando il matrimonio di Banner con Betty Ross. Ci sarà quindi questo scontro, Hulk di nuovo ne uscirà come vincitore e sconfigge anche il leader. In realtà non è l'unico scontro che fanno i due, ce ne sarà anche un altro in cui Rhino è completamente sotto il controllo del leader e anche in questo caso, ovviamente, Hulk ne esce come vincitore, sconfiggendo, sembra anche definitivamente, Rhino. Come vi ho detto prima, secondo me, questa storia è molto più interessante a livello editoriale, perché per me, per quel periodo lì, hanno detto ok, Spider-Man ha troppi villain, riportiamo da qualcun altro, portiamolo verso Hulk. Poi alla fine, ovviamente, il nostro Rhino continuerà a essere un villain super iconico di Spider-Man. nel corso del tempo, comunque, Rhino farà parte anche di un progetto degli Stati Uniti d'America, ovvero Project Pegasus, in cui troviamo moltissimi classici villain della Marvel. Di fatto, il progetto Pegasus è un'enorme struttura in cui gli Stati Uniti fanno degli esperimenti, fanno delle osservazioni, e vediamo anche che lui sarà uno dei protagonisti di una vera rivolta, in realtà, in questa prigione laboratorio. Ma qua vediamo anche una cosa molto interessante che poi tornerà diverse volte nella lore di questo personaggio. Lui non vuole scappare, anzi, lui vuole rimanere lì perché lui vuole togliersi quell'armatura. Dopo gli scontri contro Hulk, cui ultimo, tra l'altro, è stato anche nello spazio in cui lo shuttle si è schiantato, l'armatura non riesce più a toglierla in nessun modo, sembra veramente impossibile da togliere. E quindi, in poche parole, lui spera che il progetto Pegasus lo possa aiutare a togliere finalmente questa armatura e tornare a una vita normale. Quindi, in poche parole, non si fa convincere, neanche da Myra Coldman che cerca in tutti i modi di convincerlo ad aiutarlo e a unirsi a lui e anzi, ritorna al progetto Pegasus proprio di sua spontanea volontà. La vita di Rhino, però, diventerà sempre di più una vita da classico villain quando decide di contattare di nuovo la sua famiglia. Difatti, utilizza i soldi che guadagna nella sua vita, diciamo, un po' particolare per aiutarli e anzi, cerca di convincerli di comunque stare con lui, anzi, lui vuole tornare addirittura a casa sua. Proprio per guadagnare più soldi per tornare, decide di aiutare Green Goblin. In realtà, viene convinto da Green Goblin per attaccare Spider-Man. durante questo attacco di Spider-Man verrà visto dalla sua famiglia che rimarrà disgustata di quello che sta facendo Alexei. In poche parole, questa cosa allontana un pochettino Rhino dalla sua famiglia e diciamo che i suoi sogni di tornare normale e di tornare dalla sua famiglia muoiono sempre di più giorno dopo giorno. Non è l'unica cosa in realtà che va male per Rhino perché molti di voi si staranno chiedendo ma quindi sta armatura se l'è tolta oppure no? Ve lo posso dire tranquillamente ogni singolo esperimento è fallito nessuno riesce più a togliere questa armatura e quindi Rhino è costretto ad andarsene dal progetto e a cercare ovviamente un'altra soluzione la soluzione logica essendo che comunque l'America è un paese libero per carità di Dio però ovviamente per avere un trattamento medico devi cercare del denaro ed è quello che vuole fare Alexei quindi vuole guadagnare altro denaro questa volta non per tornare nel suo paese ma per togliersi quella cavola di armatura per provare a pagare altri scienziati che trovino un modo per togliere questa cavola di armatura verrà quindi contattato dal Sinister Syndicate che non voglio dire che sono i sinistri sei della COP ma più o meno quindi un gruppo diciamo minore di Villain e con loro inizia piano piano a guadagnare altri soldi che non lo porteranno a niente anche perché poi il gruppo verrà diverse volte sconfitto da Spider-Man ma come avete visto in realtà Rhino perlomeno è uno di quei Villain che a un certo punto diciamo che si pente cioè se ne vuole tornare via ed è un po' una vittima degli eventi l'essere un po' stupido e non il grande classico calcolatore come può essere un Doom o come può essere un Kingpin lo rende di fatto questa vittima degli eventi che non si riesce mai più a togliere questa armatura che di fatto diventa un fardello ma riesce poi a togliersi quell'armatura ma questo ragazzi direi che ne possiamo parlare per gli altri video ovviamente Rhino sarà uno dei protagonisti di un film Sony prossimo all'uscita però ragazzi vi consiglio di recuperare anche altri due video che abbiamo fatto su questo canale che riguardano le origini e altri due personaggi che abbiamo visto in quel franchise ovvero Venom e Kraven il cacciatore quindi vi lascio il video là e mi raccomando fate i bravi ciao a tutti